partiamo ok buonasera cicciuli volanti e belligerantissimi dal vostro dictator lorenz ciao a tutti i ragazzi ciao anche al nostro rocca ciao ciao allora 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 quarto ed ultimo episodio della serie axis versus allies su war thunder la nostra serie che rivive quattro tappe importanti quattro battaglie fondamentali della seconda guerra mondiale questa sera l'assalto finale quello dei russi a berlino ragazzi russi capitanati da appunto dal nostro dal nostro rocca il di questa sera giocherà asse buonasera super dotato confermato a nick dennis buonio mattia buonasera anche a pl scusami ea tutti gli altri cicciuli allora rocca spiegaci un attimino quali saranno le regole di questa sera e lo scenario della serata dunque allora sicuramente lo scenario sarà la mappa di berlino con il reich tag difeso dagli ultimi riducibili membri della della wehrmacht abbiamo deciso che abbiamo dato che l'ultima volta è andata abbastanza bene con gli sponi limitati abbiamo tenuto gli sponi limitati e ci saranno solamente i due punti da controllare uno per l'asse uno per il com inter non viene a dire gli alleati alleati non sono e quindi la modalità non mi ricordo se si chiama domination oppure c'è un altro nome questa modalità di gioco qui per war comunque abbiamo pensato che si adattasse per un ultimo assalto diciamo l'ultima battaglia della guerra e niente poi dovremmo un team dovrà cappare entrambi questi due punti e ci sarà battaglia fine perfetto ragazzi allora questa sera sarete a bordo del del carro o dell'aereo di rocca quindi visuale sui commies ragazzi io vi saluto ci sentiamo più tardi vi lascio con rocca e tutto il team della soviets va beh vabbè tienilo in aria da chi se ne frega ma cosa siamo 4 aerei e 3 carri siamo 4 e 4 no siamo in 7 noi come cazzo facciamo la storia ci insegna che ormai l'armata russa non c'era più io posso venire ma vengo col t3457 cioè non penso nemmeno di riuscire a penetrarmi ma dovrei ricercarlo prendete un carro tedesco e spiaccicateci la stella russa russa non si può mettere la stella ci si può mettere ci si può mettere la stella di un'altra nazione che non mi ricordo qual è tipo no io la stella russa io la stella russa l'ho messa ma perché sei un mezzo catturato e puoi i mezzi catturati se non mi ricordo male possono ma guarda ce l'ho e sì perché catturato c'è ragione samurai è stato decatturato ha ricevuto la stella russa vabbè basta che siamo pronti dai mettete pronto dai prima iniziamo guarda che manca solo l'orice metti pronto chi ci abbiamo abbiamo in aria io sono uno yak 3 yak 9 tiola 5 f io sono un arite tu sei tutto ciò vi serve bombardamento a terra in quel caso anche perché non so quante scienze a vettinare quindi in quel caso potrei utilizzare il mighty p8 non so se si arrivi a bombardare o lo fai subito se lo fai subito potresti farcela se no non credo se il p8 te vola dalla pista o no ma tanto se abbiamo capito bene ci abbiamo gli sponi limitati cioè no se ho capito sì infatti facciamo il kamikaze rocca comunque l'hai fatto a te il rule sì ma il rule set in realtà ho lasciato quello di guardare il canale vabbè ho notato i giapponesi cazzo ma magari ci possono i giapponesi almeno prenderei il 262 vero prendi il chicca si fa bene i giapponesi forse e non quella merda che c'hanno vabbè ma in realtà con gli sponi limitati era andata bene ma sì infatti ma con gli sponi limitati era venuta divertente una roba diversa io posso cambiare veicolo cioè che adesso posso non uscire sempre di altri certo 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 quindi posso uscire anche con il t34 del 40 sì no sì ma non so quanto puoi divertirti con quello cittane oh giococchi oh potrei prenderlo sul serio gli 153 di giococchi io vorrei vorrei aggiungere vorrei aggiungere vorrei aggiungere velocemente mi sentite ti sentiamo cosa vuoi mettiti pronto io sono pronto l'unico che manca è l'oris ecco adesso sto muto muoto dove vuoi che ti sposti rocca spostami nel canale dell'asse nel canale dell'asse ragazzi ragazzi vorrei aggiungere velocemente una regola per evitare che se no la partita sia infinita mentre il team avversario sta cappando il proprio punto non si può respawnare ok cioè i respawn sono illimitati se il se il proprio punto è sotto controllo ok ah ok vale anche per aerei o solo per i carri va no vale solo per i carri gli aerei possono ciccioli rocca rocca aspetta che ti chiedo una cosa per essere sicuri io che uso i carri vole se volessi andare con gli aerei posso sì sì siete liberi di switchare tra le varie cose ragazzi poi vi mettete d'accordo con il vostro team con la composizione allora vedrete un dick selvatico che a un certo punto uscirà con un carro riportatemi giù e riparlo anche con gli altri troffi 47 gli attimo 20 anni ragazzi ragazzi abbiamo aggiunto velocemente una regola per evitare che i punti non vengano cappati mai cioè che se il team avversario sta cappando il nostro punto e viceversa chiaramente non si può spawnare cioè se loro ci stanno cappando non possiamo spawnare con i carri ah cioè se poi moriamo boom no no se lo riprendiamo se lo riprendiamo possiamo respawnare cioè dobbiamo avere controllo ok ma se sono arrivati allo spawn in linea teorica se non lo riprendiamo fino alla partita se non lo riprendiamo dobbiamo far fuori il loro attacco con la roba che ci abbiamo ragazzi scusate 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 posso partire? sì no sì o no? sì no ciao Stiglitz non lo sappiamo morirai comunque ricordo a tutti che siamo in live buona sera ciao ah ma streama streama rocca? ciao nonna ah quindi non posso far partire il porco quando no no porco stalin porco stalin vuoi dire per esempio io bio parco porco stalin nel team russo è considerata una bestemmia bestemmia molto più alta di quell'altro porco stalin porco stalin porco leni porco leni porco leni ecco porco leni è proprio una blasfemia da essere bruciati blasfemia si da porco leni questa è blasfemia questa è pazia commissario questa è russia eh comunque io sto sponando in aria non sull'aeroporto io sto sponando dove capita ok io sono in aria ma vogliamo difendere un Reichstag va bene ah 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 sì stiamo difendendo il Reichstag no no ragazzi c'è con l'aeroporto ditegli di sì per favore è il contrattacco di Steiner è il contrattacco di Steiner il Reichstag gioca a due paroschie paroschie siamo già sponati tutti in aria tipo eh Rocca tu vai subito sui carri sì sì vado vado poi dopo muori e quando muori io entro in combattimento inizio il contrattacco ragazzi proteggiamo il popolo ecco lo schimbo è l'unico carro che ho ah ok ma solo a terra non si può respawnare se si cappa ovvio e che cazzo mi ero preoccupato sai che con gli 153 posso entrare nello spawn e capparlo vero? che facciamo dipendiamo B oppure andiamo siete in meno io difenderei B eh sì con i cannoni che abbiamo in tempo di ricarica non credo possiamo ma per favore io ricarico in otto tre cose che prendi l'hai preso? quelli super cazzottissimi gli ultimi l'ultimo il contatto il contatto ha 296 è l'elefante? no l'elefante? da quando ce l'hanno l'elefante? no no è Jack è Jack uccidilo ah ma quel coso non lo vedo non lo vedo è qui aspettate l'ho visto l'elefante ragazzi io vedo due contatti avversari portiamoli bassi ho visto l'elefante ragazzi non è l'elefante ma ho visto un elefante io come c'è un elefante? ma era tra i mezzi? sì non mi sembra io ho fatto l'età non è che si è servito molto sì sì anche l'elefante tutto ma sono morti tutti sul fronte orientale come fanno? ma non è una cosa storica deve essere storicamente velo simile non storicamente velo simile come lo butta giù un elefante con un S2 grazie Rocca per il tuo grande genio cosa? prego che stai a dico a me? guarda che ti faccio ti faccio deportare gli avversari sono tre ti mando in un gulag ma io costruisco il gulag mi è piaciuta quella kill la prima kill attenzione no è la seconda ragazzi attenti che scendono vai che ne aggira panther avvistato 296 comunque tu vedo verità prima praticamente c'è un panther nascosto di fronte a me sono io o ho richiamato? raga pauliamo sempre in aria posso andare indietro solo avanti posso andare anche perché il commissario lo fucilia se va indietro l'aereo mi senti? sento gli AC Watts si bravo ho le ultime munizioni quelle le finali voglio pilota cingolo canna oh allora posso scendere non so vabbè io provo a fare il giro di qua vediamo se riesco a fare qualcosa mi schianto mi schianto ciao ah cazzo allora le prime devo prendermi sa ho le ultime io ragazzi vado di bombe questi missili sono veramente non mi ricordo no l'ho cingolato Stiglitz l'ho cingolato come stanno trappando ragazzi porca l'altra dove sono passati non lo so ah e non possiamo respawnare mentre loro kappano mi raccomando attenzione non morite in aria possiamo si in aria possiamo si in aria si vabbè vabbè ma il team dentro di me è ancora tedesco quindi non vi preoccupate cercate di ricappare vado vado ah è morto è morto io l'ho ucciso l'ho ucciso ok Panzer per Volkswagen 6 ah mi stai dicendo che io non sono in film c'è il Ferdinand ah è Stiglitz non puoi respawnare no no adesso posso stiamo ricappando se lo ricappiamo non puoi respawnare ci vuole 30 anni eh lo so ragazzi bisogna ma non ha senso è un vantaggio così ma sì ma sì ma adesso radinei una sopra dimmi quando hai ricappato Iarlo per favore dov'è il Ferdinand il Ferdinand è dove proprio sono morto l'ho visto mi hanno sparato da destra ok il Ferdinand è andato bravo ma gli attresti che cazzo di giro stanno facendo ok catturato vai Stiglitz ragazzi io non vedo niente in zona sì c'è un Iron aiuto Jagged Tiger guardate che ha è abbastanza libera sì però è inutile fare se gli spawn limitati ma come li raggiungiamo eh ma gli spawn sono illimitati se noi cominciamo a cappare non sono più illimitati eh infatti spero che l'abbiano capito anche di là sì sì ma Jack l'ha capito dov'è in 109 a Spagna e io ci provo so già che ci morirò ma arrivo Ricky sto venendo a darti ma è forte c'è gli ex Tiger ok ok è passato lui ma non sono cazzo a cazzo quindi lo sanno aiuto aia aia mi butti ma la nostra l'ariazione cosa sta facendo è morta sta rispaurando bravo lo vedi praticamente ma come ha fatto un 110g a far fuori un IS2 con i bomboni no bravo cagna su dritto su di noi ah non è morta con l'arca non guardavi sì ma io non posso andare veloce quanto quei cosi vabbè scusate che colpo che ho preso oddio è camperatissimo Jackie dove è Jackie grazie ma hai mandato a fuoco ma non è vero è in mezzo delle casette verso sì ma hai mandato a fuoco non è assolutamente il solito posto vediamo se mi dà la kill alleata no non ti ha dato la kill perché mi sono schiantato l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto la trasmissione l'ho fatto tutto l'ho fatto anche il motore adesso l'ho fatto anche il motore appena sparato di nuovo l'ho fatto l'ho fatto di più l'ho fatto di meno perché sono migliori perché c'è una penetrazione balistica e osti dove sta ancora l'hanno tutto il cappuccio balistico a me no perché dietro di più se ne hanno di più di cappuccio hanno anche il cappuccio balistico era tanto distante da te lo so gli ho dato fuoco credo ma io una kill adesso l'ho fatta quindi mi hanno fatto così schifo sto carro ma non è che ha ci usare ho messo i difetti ma quello che sta accadendo è il nostro io vorrei io gli ho fatto tutto questo punter c'è Vladimir è uno dietro ne aveva uno dietro ne ho uno davanti qui ne li posso attirare sono in ricarica mi manca un po' l'emozione sono in ricarica sta avanzando Ricky sta qui sta avanzando verso di noi hai visto ha rinchiato bravo 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 un punter F si è un punter F ma hanno anche i taloro bravo si mi dispiace se guarderei poi la live già due volte che ti uccido siamo amici hanno fatto la guatta ma hanno fatto la guatta ti amo ok ho dato fuoco al punter c'è il loro tiger che sta dentro al canale c'è uno sotto il ponte di esatto c'è un tiger sotto al canale posso farsi nulla 27 secondi di riparazione io ho ancora 6 secondi e poi ci sono esco col bombardiero lo faccio ok sono di nuovo reparativo abbiamo distrutto completamente l'abiazione c'è anche l'elefante dove c'era il panter attenzione no il ferdinand l'ho criptato ragazzi gli ho fatto già lo sai che che ferdinand è l'elefante la stessa dai non ci credo no quello non lo sapevo è un panter è il panter di diego il panterà faccio una cosa che non dovrei fare uscio da Reistad sì c'è un panter c'è un panter non è morto attento peotto ti sta arrivando uno dalle tue ore due e undici perdono ora è dietro i tassi no mica di di fruttore proprio lui oh c'è un tassi 152 ok sono morto finalmente ti l'ha visto tassi 153 sì va bene lori se che vuoi che sia assist buono ma c'è ancora qualcun altro l'ingegno Jack che è qui sì sì Jack è lì è lì cazzo io li stavo sparando ma i suoi sono rispondato con le bombe nessuno di voi ha il P-47 sovietico no no lo compravo ma anche io io avanzo ragazzi Comi due secondi che arrivo anch'io se vuoi se vuoi guarda che palle sono tutti là eh sì che sono tutti là è il loro unico punto di eh niente allora li flanco insomma hanno rotto le palle bravo chi è che sta già flancando io e Comi eh bravo puniteli perché hanno rotto le palle di Stanley qui c'è The Tiger in teoria c'è anche l'elefanto ho rimbalzato lo Jagdpunther non so se vuoi eh contate che c'è anche l'elefanto lì Stiglitz sparagli vicino alla come si dice eh vedevo soltanto il il tettuccio del suo capro non vedo dov'è il Ferdinand assist ok è in giro quel Ferdinand vicino ragazzi il Ferdinand sta arrivando al Reichstag eh sta fuciando al Reichstag il Ferdinand cazzola qui c'è la casa matta lì ho mattelò a spot oh no no sì 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 è qua l'ho visto l'ho visto il Ferdinand è lì oddio no ma non è quello no non è quello Ferdinand era qui ah sì l'ho visto l'ho visto l'ho visto vai cazzarola ragazzi un attimo è che adesso ho capo questo qua mi scherzi l'ho visto su B che stanno andando a viare eh le elefanti sì sì ho una ricarica ragazzi ragazzi poi prendo il T44 e K sto ricarica sto ricarica ragazzi sto ricarica sto ricarica vlad puoi ucciderlo oh minchia come ha fatto a vedermi ero dietro il cosa il bunker eh magari ti aveva visto prima preso questo è il classico grido ah ragazzi se loro ci stanno cappando non potete respawnare infatti porca vacca è vero aspetta devo andare come un maiale io sono già spawnato io sto fermo allora se state fermi allo spawn quando abbiamo ricaricato muovetevi come era spawnato prima di che avevano cappato oh cazzo mi lasciano no 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 mi lasciano mi lasciano arriva l'aviazione è morta cattura ok potete respawnare c'è qua il Tiger 2 mi aspetta arriva 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 sto arrivando tutti insieme all the line ci starebbe troppo comunque ragazzi direi che ci stiamo comportando più che greggiamente io ero convinto di avere le bombe invece avevo preso i razzi che schifo si Roriz mi hai preso tranquillo ho fatto una cosa patetica sono anche morto senza droppare ragazzi provate a fare un'offensiva voi io mi sto buttando su Ada molto non molto il problema è che dietro di me c'è Roriz io ci provo ancora ci provo io ci provo io con il D54 mi muovo lontano dietro ai colline ai colli eccetera ma io ahia c'è qualcuno davanti il nostro problema è che loro hanno visore su A ma noi non possiamo avere visore su B esatto perché è un'inculata retreat io l'ho detto a forza sposo per tenere il battuto no no cazzo è sempre quei posti lì di merda che palle eh sì si mettono lì perché è il loro vantaggio se non lo sfruttassero sarebbero degli idioti Tiger 2 di fronte a me eh sono tutti qua bene ragazzi tutti di fronte a me Tiger 2 l'importante è che lo penetri in torretta poi dopo esplode da solo ok è decapata è decapata dai se li fate fuori non possono respawnare ecco adesso ti raggiungo appena possibile anche io anche perché ti Ricky ma vattene da che tanto continuo a decappare qualcuno difendi ma è vero mamma mia che ti ha fatto perché uso il telemetro perché tanto non funziona mi dice 250 ma no è lascia che l'estraling guida la tua mira va bene lascio che io il tuo salino più grande è il game è respawnato il game è respawnato di nuovo no ragazzi è regolamenta no già facciamo fatica se poi si parassimo a posto e vai finché non si capa scrivete adesso siamo educati persone sì siamo russi ma educati ma vado e lo facciamo noi dai comrade ok sto cercando di abbattere tranquilla io me la sto cavando grazie è sempre l'age e chiosti ok vi ho segnalato da dove sta venendo il loro assalto coi carri comandante pilota tramite militeriare trasmissione però può ancora sparare quel no taker 2 è sua taker 2 è sua ci sono ah mi sa che mi schianto eh sì ok no non mi scegli eh mi ciulla noi continuano a spawnare anche se non dovrebbero se che nemmeno in coda io visite visite no pa niente pa niente non è in coda vlad pa niente sì vabbè ma il fatto è che questi spawnano in aria anche noi vabbè vabbè in aria è giusto è a terra che non devono farlo no nel senso che non dovremmo riuscire a spawnare in aria è sul fiume è sul fiume il tigre non posso arrivare è proprio sul fiume però se vuoi non mi veda già comunque ti ho salvato dal panter grazie è un aria ok ok si sono ce l'ho a tiro è un panter 4 no no è un tigre mi ori avrei bisogno di una manita sto andando a bombardarli aspettate un secondo no ce ne ho uno anche dietro bagagge è un panter 4 io mi son bloccato ragazzi dov'è il p4 no che sfiga niente ci crepo è un aria in alta quota e invece no e invece no ok mi sono sbloccato non è finita non è finita ho una culata fuori gioco c'è il panter eh ho visto però è nel fumo mannaggia eh io era caduto attenti che c'è ancora c'è ancora jack si lo so che c'è ancora jack non posso versi nulla niente mi ha pushato bagagge addio è proprio qua su eh ma non posso oh cazzarola non ci arrendiamo si io sono subito rispona subito vai 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 muovetevi ragazzi continuiamo a difendere è il ta quello che t'ha ucciso è il bf 109f è che c'è c'è jack pericolosissimo io devo riparare osti non ci possiamo muovere beh lo so comrade resistenti io ci provo io provo a muovermi si tu vai via provo a tenerlo io continuo a fare difesa veloce io difesa mobile ma va fa culo va è più che altro che se gli aerei si muovono sono fritto perché ormai ora che riguarda aiuto aero aero eh aero aero fa niente deve prendere te non me sto io cappando vuoi come vuoi che ti dica come me sto la situazione in aerei no va bene resistete no no va bene perché mi tirano me le palle va benissimo quindi possiamo va benissimo vabbè io continuo a vederli risponare vabbè rimando la polemica dopo però no scusa vai su e dirglielo non risponare magari non leggono l'abbiamo scritto se non lo rispettano più cioè comunque no no ma alcuni li vedo che stanno rispettando oddio si infatti c'è è vicino è lì vicino è lì vicino è il young punter è vicino a diego dove l'ha ucciso come facciamo a stare vincendo hai capito ho visto i colpi da lì ragazzi non c'è la minima possibilità che noi possiamo star vincendo in questo momento invece si zitto perché poi mi porta sfighissima e mi bombardano è che loro volendo possono chiudere la bombardante orpo ferdinand ancora ma non l'avevamo ucciso c'è ancora un ferdinand ma che palle salvatemi olda più che puoi al perché ok ne metto un paio stanno lì oldare oldo olde line ladne uno su di te è un 109 g2 giro a destra va bene mi ha vinto eh mi sa di sì mi sa di sì mi ha vinto mi ha vinto gg gg come cazzo mi ha fatto vincere il resto è leggeramente la potenza del kv2 che bounce allo yak panther mamma mia il t44 che ribalza tutto signori fragna con 10 kill rialaviere della della rush comunque voi non avete idea di che ho il dato fatto io non so io non so chi avevano in aria erano delle pippe clamorose ho fatto ho fatto delle ho fatto delle kill in manovrato cioè nel senso io manovravo con il la 5 e li uccidevo perché si schiantavano attenzione affermazioni scottanti comunque stigli con kv2 ha fatto un'ottima partita e sono morto una volta esatto io direi che best player direi che è fragna che ha fatto quasi il doppio dei punti del loro primo no ci ho coperto quindi va più che bene non mi ha parato il culo se no non riuscivo a cappare così al termine se lo giochiamo io ricky e stigli secondo me in aria siamo stati bravissimi comunque ma quindi andiamo sopra loro non dovevano prendere il 110 ma immagino si farà un ritorno dai non la finiamo se facciamo un ritorno io pretendo di usare il 262 e io lo Jagged Tiger per favore ah è vero ma perché non hanno preso il 262 perché era già abbastanza sbilanciata così se permetti ma anche perché nessuno ce l'ha io ce l'ho quindi vado a chiedere vabbè ne facciamo un'altra dai ne facciamo un'altra e io si rifà si direi però io voglio usare il 262 ah ragazzi c'è Jackie qui non ho capito no mi spostate su un attimo un secondino si faccio io dai bravo ragazzi ripeto la cosa tanto ho visto che l'avete rispettato abbastanza a parte un paio di situazioni non si respona così abbiamo fatto anche noi finché il punto non è completamente ricappato perché sennò sarebbe troppo randomica la cosa cioè se noi lo stiamo ricappando non è mai detto capito ok si però facciamo una cosa che si decolla da terra per me si può anche far che si decolla da terra va bene però si rallenta un po' tutto il discorso il problema qual è Rocca il problema è che se si decolla in aria se uno muore e tutti gli altri sono bassi in battaglia questo c'ha il vantaggio che respawna già in aria diciamo che lo spawn aereo era per cioè no era per era un gioco molto veloce se spawniamo a terra è un po' più lento però ci può stare anche così va bene dai vado a dire agli altri che si spawna a terra ok mi rispostate giù ogni volta eschi che vengono distrutti ok ragazzi le regole sono identiche unica piccola differenza si spawna a terra non in aria ok ah ok si spawna a terra non si smette di spawnare in aria quindi ok va bene va bene proviamo è così vivo vai sta mille volte più noioso è lento ma soprattutto si è un po' più lento però ma si quello che si riscordeva per riparare eri tu grazie spari in 30 secondi non è colpa mia ti ho fatto malissimo ti ho fatto malissimo vabbè non mi hai solo una volta comunque Jack la seconda volta ti è arrivato il proiettile la prima non ti è arrivato il proiettile mio no Jacky corri 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 ti piace puntare quel tiro quel giro non era fammi ebbè è stato stato proprio te mi aveva marato eravamo in me ciao ciao va bene però come prima io il T44 lo prendo soltanto in caso estremo ma perché scusa tanto bounce tutto con quel mezzo di merda non so però mi voglio usare gli S2 e se bounce mi devi mandare un selfie che dab secondo voi con il primo che di uno riesco a rimazzare qualcosa no penetra non manco fossi burro e tu non puoi e tu non puoi fargli niente perché non hai idea hai presente Stiglitz ecco immaginati ancora più vulnerabile lascia stare che ho pensato più colpi di un S2 guarda ma come scusate come mai a loro hanno aggiunto un altro carrista con Tiger 2 ma si tanto in anonendica ogni volta che perdono gliene si aggiunge uno non gli bastano magari non hai i mezzi russi vabbè ma allora a questo punto però col Tiger 2 lo puoi venire quando venire col Tiger H1 li difendiamo? direi che voi dovreste difendere basta cioè proprio magari quanti siete a terra? tre? quattro ma va quattro allora io ne manderei due a nord nella zona dove stavano passando prima eh vediamo ma è cambiata la mappa o merda è cambiata l'altra parte oddio è quasi che ricordatevi di spawnare all'aeroporto ragazzi sì si spawnano all'aeroporto posso spawnare con il carro io? no come ti pare? già siamo pochi perché noi siamo tantissimi invece non abbiamo un Tiger 2P in più da battere io rascio io rascio rascio no non vi ha raggiunto con il 34 del 40 ma non ti vergogno urro 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 quando è finito prendere il cattivo terra torna in aria del 40 ma così ci fai perdere lo scontro iniziale che è fondamentale ma lo perdete in ogni caso ma non è nero gli abbiamo dato un filo da torce sì ma perché spawnavamo in aria eh beh che cambia anche loro in teoria cambiano climbano il doppio di nonno ferro c'è no fragna proteggi tu dall'alto sì fragna ok no perché io posso penetrarli quindi vado a cercare il loro young tiger piglitz lo sai che io non li buco vero? infatti non fai niente sei stupido tu non te hai cingoli almeno fai qualcosa forse no no tu devi cappare poi basta è un t34 jugoslavo andiamo vlad sì ma state attenti state attenti che non vi rushano ma io vado a stupire con cosa con un 2-5-1 i tedeschi non hanno un cazzo per rushare neanche volendo jagd panther è molto veloce ok tigre attenzione tigre 2p poi io vedo 3 eri loro 3 eri poterlo sulla mappa da quelle parti lì sta andando verso vedo un tiger 2 quella bassa quota è mio intanto mi ucciderà in frontale come minimo perché è un 110 come minimo è loris con 110 secondo me no è piccolino uno scende picchiato è un 109 c'è il tiger 109 con la bomba sì c'è il tiger lì in giro 109 con la bomba ma che sta puntando a me perché è stupido ottimo decap ottimo decap a destra a destra lungo a destra a destra a destra c'è il tiger che ti punta come? oddio dov'è? no ah beh non posso far niente ho perso il controllo mi sparo mi sparo colpo ah l'ho visto sto ricarica sto ricarica che ti stiamo coprendo metà ricarica completata metà ricarica completata gommi è uno dietro barabba eh lo so si era da tua sinistra punta me il tiger ok ok oh merda fanno risparare aspetta te lo dico io quando fanno risparare ok? sì però si è arrivato credo uschi vado provo adesso provo adesso vai ok no io c'ho il flight model è un po' danneggiato non l'ho penetrato nel punto nel punto debole cos'è? è il tiger 2 aiuto aiuto commi no levati eh ragazzi sto indietreggiando io eh Vlad torna con l'aereo appena puoi ma vada c'ha un buco enorme sulla torretta non è raga a me hanno lasciato un tiger 2 e un tiger 2 male oh io vado a fare il camicanze sull'aereo porto oh raga non mi ha no no mantenete la superiorità aerea su tiger 2 su b è andato io la posso sbalare la mia sinistra quello appena morto intendi dai ragazzi ne abbiamo eliminati due ragazzi ho fatto tutta la no ho fatto quasi tutta la torretta tiger porsche qualcuno che è esatto ah no no niente niente se stanno entrando in out uccideteli velocemente prima che ci impediscano di respawnare non 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 li vedo su a come lo vedi ancora il tigre è sempre lì c'è è sempre lì è sempre è sempre lì 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 è sempre lì è sempre il tigre 2p è appena respawnato lo vede attraverso la porta di brand lì come fa essere appena respawnato non hanno capace io l'ho specificato varie volte non so più che dire non sapevo io sempre jack mi uccide il camperino vabbè che pensi a me dov'è jack è a te lo dico subito a 136 provo un tiro da 500 spotti sulla mappa dopo aver sparato l'ho appena l'ho appena spottato cingolo ok se guarda dove cacchio il fatto che Simon sia l'aviere predefinito mi lascia molto molto disturbato è un panther appena respawnato non lo so loro hanno tutti i loro tiger subì sono tutti respawnati sono tutti respawnati finché non finiscono di capare in linea teorica non dovrebbero farlo lo so a questo punto va bene lo facciamo anche noi e chi se ne fotte è ma così invece noi non lo riusciamo però capisco che è fastidio bravo bella c'è anche un panther che dovrebbe essere alla mia destra nella via principale è più che altro c'è cingolo cingolo al tiger 2 h su b questo mi ammazza oddio mi sparano da destra 158 c'è jacky c'è jacky nel jacky jacky di merda 158 158 no ho fatto una kill pazzesca lo vedi appena sparato guarda che non è ancora stata riportata la cosa eh lo so ma ha perso l'engine quindi tra un po' muore allora io sono appena decollato allora su b c'è un tiger 2 è un tiger e cioè vabbè che faccio no non è un tiger e carissimo cingolo e canna cingolo e canna non si può muovere non si può muoversi non può muoversi vabbè se avete bombe sparatele su b che mandate easy cioè prendete roba sicuro bravo comi c'è che il tiger 2 mi sa lì vicino sì sì sono due eh sì bella bella Vlad c'è un altro c'è un altro sto ricaricando forse lo faccio fuori eh sto ricaricando sto ricaricando non c'è più dove è andato non c'è più vede Jack the tiger ok bravissimi non lo so più attenzione che qualcuno dei nostri mi sa che è in seguito no c'è ancora uno il panzer lì premium ahia eh da qui non li vedo ragazzi non li vedo e c'è un muro del coso comi è proprio lì su qui non so se lì comunque nella mia zona c'è anche un panther credo sia Diego non so dove sia a parte di vista ma Diego è appena morto quindi è verso lo spawn ma quindi ragazzi io sono l'unico rimasto in vita degli aerei per ora eh ma può rispawnare nessuno sta cappando io sono per rispawnare tutti ma tu vuoi che ieri possono spawnare sempre anche se no lo so lo so lo so è che chiedevo per vedere se ingaggiare o meno sono molto disappoint perché stai in 4 verso 1 non ingaggio manco se mi pagate Ferdinand 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 dove è il Tiger? è proprio su B mi sta smitragliando come un maniaco è vero radiatore serbatoio al Ferdinand non so non ho fatto nulla eh vabbè madonna sto aereo è un cheat ma non gli faccio niente ma come il cazzo ah io non l'ho ucciso c'è il Tiger a destra a sinistra è mia adesso è qua qualcosa mi ha sparato credo sia Jack sei lì ah l'ho visto sparare la mia canna no è un panther no l'ho rimbalzato è un panther vabbè ma cioè vabbè eh eh mi dispiace dai dai stiamo vincendo di kill stiamo vincendo di kill io non ho più la canna non fatevi uccidere cercate di rimanere in vita difendete alfa difendete alfa la vinciamo di ticket con le kill no ah cazzo la ce l'ho davanti vabbè vabbè come riproviamoci vai tanto possiamo spawnare non hanno ancora preso A vai 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 ci riproviamo io quel quel tigre lì premium devo capire metà metà ricarica è in torretta in torretta solo in torretta perché davanti a te ho poco dappiato il tigre premium in torretta adesso mi sa che allora le mie munizioni fanno cagare altrimenti se ce l'hai messo benissimo guancette perché sono tante le guancette dello scafo come il Ferdinand in pratica lo scafo è quello del Ferdinand in teoria è il contrario però fanno vabbè l'adne è uno alle spalle vabbè ma ragazzi sono strata in aria ma ce l'ho ancora canna il Tiger subito ho fatto la canna è il Tiger 2P di fianco a me sono morto Rasbe Tiger 2P che sta passando da dove ero io bella kill su Berto Vlad non lo vedo Tiger 2P è anche io è il Tiger 2H scusate la maccia attento la maccia è in questa posizione Vlad è qualcosa addosso? no Vlad ne ha 4 addosso se non è morto oh cazzo questo non lo volevo vedere no che culo ah c'è ancora il Panther su B occhio si io vi ricordo comunque il Tiger 2H qui ok ma io Tiger 2H non vi faccio nulla oh c'è qualcuno l'anziamo? si a meno ci vado si sono io tranquillo perdino deve spawnato? eh si adesso spawnano ancora tutti cazzarone mi raccomando ragazzi difendete ah ma perché climbano? cioè perché sono teresi se non climbano si vabbè dai ma se clambi su questa partita sei un po' insomma dai io sto climbando perché altrimenti non li posso prendere va bene ma all'inizio all'inizio no ragazzi sta entrando dentro nel cap io sono sì Tiger 2H questi sono due secondi di tempo di riposizionarmi a parte che mi sa che tutta la loro aviazione è morta un Tiger 2H e un e non lo posso far fuori eh vabbè Sigrid è morto però ok niente fa me spawnare fa me spawnare loro sono respawnati in aria e adesso in aria si può respawnare no sono respawnati in aria e non nell'aeroporto ah non so per quanto soldo eh Ricky due secondi ah me lo preverò se non potete spawnare attraverso la casa no vabbè ma penso che l'abbiano capito visto che quello magari ho visto male io perché sai io ho visto solo i puntini che comparivano non sull'aeroporto ma aria eh ragazzi c3 è stato bello addio veloci veloci sistema antinicino no sono mortissimo sì ma ci serve bombardamento a terra io adesso faccio l'ultima run con questo Yak3 poi riprendo eh niente ho il culo scoperto poi riprendo il su C'è anche il Ferdinand, c'è anche il Ferdinand, ho solo morto. Ragnani, hai uno sotto. Sono dentro B. No, niente, è andato, è andato. Sì, sì, sono dentro B. Lui è il Ferdinand. Posso vedere dalla trariva del fiume? No, eh, vabbè, abbiamo incendiato. Buonanotte, ci crepono i miei poveri comrade. Ok, ci sta. Eh, io ho l'aereo disintegrato, l'ho addosso all'aeroporto. Sto cercando loro, ma dove stanno? Non li vedete? Sono proprio su B, sono tutti su B. Ma adesso sono un'ambinaria? No, è quello che si chiederanno di voi. Sì, l'ho portato un altro a casa, vai, ma che non puoi spiegare anche lui. Sono tutti e due su B, ragazzi, tutti e due. Ferdinand e Yag Panther. Radiatore del serbatoio al Ferdinand. Buttateli giù per i comrade. No, ma ragazzi. Ho creatato il Ferdinand, ho creatato il Ferdinand, ho creatato il Ferdinand. C'è. Io ho fatto tutto, l'ho anche incendiato. Tag 2H che sta facendo lo stesso giro di prima, Yal. Sì, vai, 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 perché sta scappando. O faccio poi il Ferdinand e il Ferdinand. Sì, ero io e adesso mi scappano. E niente, mi scappano, niente, sono stupido. Volevo segnalarvi la persona che stava su B, ma... Ero Yag Panther e JQ per... Ragazzi, se avete il controllo aereo, spono con il su 6. Eh sì, ne ho decollato solo uno adesso. No, in realtà ne sono decollati quattro, io vedo. Dice stare su B. Dice stare su B con me. Ah, ok, allora ne sono accolati tra. Arrivo, arrivo, resisti, com'era. Eccolo, eccolo. Perché gli sono entrato nell'aeroporto. No, non va. Non ho decolle, non ho decolle, vai, vai. No, non ho decolle. C'è chi... Occhio, occhio, Jackie. Eh, Jackie ero, oi, perché gli salva il culo. Punta ne, punta ne. C'è chi ne era conoscenza, cioè nel senso. Jackie non è scosato. Oh sì, vado, vado, vado. Va veloce. Eh. Va bene così, è ancora decappato. In teoria dovrebbe aver perso, ma vabbè, pazienza. Ragazzi, siamo avanti. Come si chiama lui, in teoria? Va dietro. Ma cosa significa che ha blato gioco onesto? Non lo so. Vlad, si deve dire qualcosa? Non è che forse si è spawnato terra e loro hanno detto... Vabbè, dai, non facciamo polemica. Non ha senso far polemica. No, ma sono loro che stanno venendo a fare polemica. Lo so, lo so. Io è cinque minuti che sto climbando e loro vengono a dirmi che spavano per l'aria. Mi stanno sparando, mi stanno sparando. Sì, sì, e se da sotto... Non possono, sì. Non ha senso. Non possono, avevo preso il punto. Non era da... Non era da questo punto prima. Ma chi fa il camionato? Tu è morto. Comi, che è che ti dai comi e sto cercando di arrivare. Dai, resisti. Ho preso il punto, cioè... Non l'avevo preso. Sì, sì, ma... Oddio, no. Un buone... Non l'ha gianciato. Perché? Hai pegnato su Berlino con aereo, cioè... Sì, ma sono impegnato. Lo fate beh? No, è da sinistra, sto cazzo di Gino. Ah, ma sono dentro le nuvole, non mi vedi. Ah, ok. Allora questo le sparo non sei giù. Ragazzi, io vado a fare... Occhio! Non può sparare, Comi. Non può sparare, Comi. Quello lì non può sparare. Vado a fare il bombardamento al suolo. Sì, c'è un 110 a terra, lo prendo io, se volete. No, ci sono... Io non capisco come non sia morto, si è beccato un 122 in faccia. Non può sparare quel Panzer IV, Comi. Eh, però... No, ma c'è... Ah, da dietro! Sì, sì, lo vedo. Lo vedo, aspetta, lo bombardo io. Oddio, il Panther. Eh, ce lo faccio. Eh, sono morto, sono morto. Distrutto! L'ho distrutto io! Davanti, davanti, davanti. Parabà, arriviamo. No, no, ho sbagliato il colpo, mi dispiace, Comi. Questo è un petino. È finita. No, ma perché continuano a respawnare? Loro non potevano respawnare da due anni. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, cioè, noi gli stiamo stracciando, lasciatemi almeno la... Viene, avanti ho messo un po' di sparare. L'aggetto che mi punta, è morto, oddio. Vado, è uno in fronte. Ah, uno sopra di me. Eh, vabbè, ho fatto colpo, non ci credo. Che belli i 20 millimetri russi. Sono forti i 20 millimetri russi, in realtà. Sì, lo so, lo so, tutto. Secondo me loro hanno inteso che se usciamo noi dal capo possono... Eh, lo so, lo so. Vendetta! Vendetta! Secondo me non è stato spiegato bene. Ma guarda, no, no, guarda, prima ci sono tornato apposta per dire che il capo... Però hanno capito che... Ragazzi, alla crawl opera c'è un nemico. Non so se tutti la conoscono, Jarl. C'è scritto sulla mappa. Sì, 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 sì. C'è scritto sulla mappa. Eh, bravo. Ora mi è venuta voglia di andare alla crawl opera. Non vedo nessuno. Dove? Non lo so, sono uscito appena svoltato quella via lì. Oddio, eccolo, eccolo, eccolo. Stanno climbando tutti 9 su 10, dopo che hanno visto che esista anche questa tattica. Sì, ma climbassero pure. Quando poi io faccio bombardamento al suolo, loro stanno a 3.000 metri. Sì, ragazzi, stanno climbando nello spazio. Climbate anche voi, per favore. Sì, stiamo provando a girarlo. Eh, se hanno il tasso 152 non andiamo tanto lontano. Non è uno dietro, non è uno dietro. Sono in fiamme. Sono in fiamme. Va bene, va bene. Va bene, finché non capano, finché non capano. Sì, mi sono spento. Mi sono spento. Vai, Stiglitz ha sparato. Bravo. Grande gol. Non è il P44 e va la KV2. Ma come fai con il KV2 a tirare giù i Tiger? Ma non si sa. Stiglitz bias. No, ma guarda che il KV2 è in grado di far fuori qualunque caro del gioco. Anche il mouse può. Anche il mouse può sparare e è in grado di one-shotare qualunque caro del gioco. Allora, ragazzi, io faccio ground pounding. Se mi riuscite un attimo a... Esatto, andate su ground pounding. Sì, no, sembra qualcosa tipo del mondo del porno, no? Ground pounding, non lo so, una... È spaventata una terra. Come una terra? Mi pialla adesso. Non lo so. Io ne ho uno dietro, Fraglia, se mi dai una mano, eh. Ho visto un samioncino. Rammalo, rammalo. Ma loro non ci provano a cappare. Non capisco. Ma anche perché sono in un 2v1 all'ora. Sono in un 2v1 all'ora. Sono in un 2v1 all'ora se si provano. Ma io sono morto, proprio. E soprattutto non possono responare, quindi... No, non sono morto. Non per ora. Sanno cappare. Occhio, occhio, commi a sinistra! C'è il Panther ancora, sempre Diego. Vabbè, ma quello lì è il primo 109A. Io non ho fatto nulla. No, non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla. Ho presentato rete, però. C'è una sfiga a te con Jasbringh da far paura. No, però, per esempio, il mio 2kilo è fatto su di lui. Ok, non può sparare. Oh, io non trovo più nessuno a terra. Ma, ma, sono sparati tutti. Non possono sparare. Aspetta, adesso glielo scrivo. Adesso non vedo nessuno che esce dal... No, ma guarda, guarda, non c'è nessuno che sta odando. Sono lui. Sì, perché sono già in giro loro, ragazzo. Allora, chi... Guarda, Fragna, che è probabile che ci diano Pumper Focaccia e vengano sullo spawn. Mamma mia, che killer fumogeno, ragazzi. Io ne vedo uno. Non ce n'è, non ce n'è. Ok, ma in alto a sinistra, 2 ore 11, 10, dovresti vederne uno. Sì, quindi è uno ore 12 davanti a me e poi è sempre ore 12 uno più. No, non ci credo con l'anti-aerea, quella scema. Sono usciti, guarda con cosa cazzo è uscito questo. Ma io provo a puntare quello di sinistra. Guarda con cosa è uscito. E ragazzi, sono anche in superiorità, a momenti in aria. Mi stanno sparando, quindi vabbè, ne dubbi. In aria hanno i mezzi migliori, a terra hanno i mezzi migliori. Qualcuno mi spiega come stanno vincendo. Noi abbiamo il cuore, amico mio. Noi abbiamo il cuore. Volevi vedere per me. Volevi vedere per me. Volevi vedere per me. Guarda, no, 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 me l'ho splottato. Merdacce. Che cazzo fa volere? Ma va a fanculo, sai. Ah, guarda l'altro mu arriva. Comunque Fragna c'è la marcia in altissimo. Sì, sì, l'ho visto, lo sto ingaggiando uno. Non è problema. E vuoi morire, per l'amor di Dio? Che cazzo è andato? Ramaccia sta volando basso. Ma ora stanno sul nostro aeroporto, Timo. È vicino. Ti prego, vinci quella donna, chiunque tu sia. Si stavano lì. Stammi pure, non entra dentro, che rischiamo. Se no, vabbè, ok. Cos'è quel duello aereo emozionante a 2000 metri? Penso che sia Ramaccia contro un 109. Se è qualcosa di emozionante, Ramaccia. Forse è Fragna. No, mi sa che so io. No, è Fragna. Non si, non avvanzare, non ne abbiamo bisogno. No, no, infatti. Voglio vedere se io, qualcuno. Sto guardando la danza. Non mi lasciar da solo, che ho paura. Sono un comrade, ho bisogno dei miei amici. Sono dietro l'interno. Sono dietro il camaroten. Ce l'hai tutti addosso, chiunque tu sia. Sì, c'ha 10.000 aereo, infatti sto guardando il tuo povero. Non so come fai, ma non sei vivo. C'è anche Vlad che ti sta attaccando. Comunque, signori miei, vorrei dirvi che siete in tre a terra. Alcomi è appena morto. No, comrade. Gli è appena morto. Il comrade è da zero e è appena morto. Cazzo. Pezzo di merce. Su B, state un po' lontani l'uno dall'altro, che se no... Sto venendo a bombardare. Comunque, loro hanno puntato tutto sul fare superiorità aerea, ma non hanno fatto ground pounding. Per niente. Non è che l'ha donato tutto. Ground funding, ground funding. Ma guarda che superiorità aerea li abbiamo non stracciati, peggio. Dici? Eh, che cazzo? Aspetta, questo me lo mangio io. Santo, lo sto passando proprio... Si, mangiate perché mi stanno massacrando quei razzi queste cose, eh. Non so dal quanto oldo. Tranqua, preghiere uno dietro. Due dietro. Che scemo. Uno ti si è tolto. Uno ti si è tolto. Che scemo il Simon è. Mi è venuto addosso, non ha neanche sganciato la bomba. Yey. Era una tattica rilont. Tydark, sei uno scemo. No, ha visto che Rion Kv2 ha provato pena per te e ha detto no, non ti sgancio. No, comrade, commi. Ma dove andano? No, loro non sono più sponati a terra. Tydark ha usato l'arange e bomba. Dopo che gli ho scritto, ma voi siete sponati prima o dopo aver finito di dicappare? Non si sono più fatti vedere. Oh, 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 oh. Ne hai due dietro. Non sta, non ti ha vinto male, ragazzi. Tranquilli. Abbiamo vinto, fine. Ha vinto ma proprio male stavolta. Ma io mi ho detto tantissimo. Anche perché se loro perdono la zona stai... Cosa hai fatto, barabba? Ma non sai quanti ne killano così? Cioè la merezina di coda di quest'aereo è... Ma stanno sponando tutti gli anni perché non possono sponare a terra. È tattico. Ma niente, ce la faremo tu. Ma tanto li stracciamo, cioè qual è il problema? Ma la metà hanno le stesse capacità volanti di... Cioè Jack che ha un aero che non credo può usare. Sì, sì, lo può usare. Vabbè, ciao. Chi assist sul sexy beluga? Ragazzi, mi si tratta la connessione. È tornato il gol. Sì, tranquillo, stiamo vincendo così male che puoi anche far senza rientrare. Abbiamo vinto? Ah, ah, ah. Sì, sono tutti aerei loro. Dai, il P47 tedesco ci sta. Le push oltre il loro spawn. L'hanno buttata un po' in cacciara. Sì, dai, è morto, è morto. Vabbè, ma chi se ne frega, ragazzi. I 153 modello di 62 di Zukovsky. No, ma dico l'hanno buttata in cacciara in senso pusharla. Sì, l'hanno buttata sul direkirsi. Sì, l'hanno fatto bene. Tanto questa non era la bella. Andiamo a Berlino, la conquistiamo questa volta. Madonna che fatica. Prendiamo Berlino, Beppe. Prendiamo Berlino. Abbiamo difesa e adesso l'abbiamo anche conquistata. Ma perché Stiglitz ha meno punteggio? Non è vero. Sì, ma perché era spawnato Stiglitz. Scusa, io? Ah, è tornato in game. Che l'ha, io? C'ho, niente. Cazzeggio time. Io se devo fare cazzeggio time vado a... No, vabbè, vediamo gli altri. Vediamo gli altri. Cosa vogliamo fare? Mezzi... 7-7, 9-0, 10-0. Ehi, ciao. Ci sono. Ci spostiamo sopra? E vediamo. Molto del seco. Sì, dai, andiamo. Spostatemi. Ti dai, facciamo qualcosa for fun? No. Io assolutamente no. Io me ne vado. È stato un piacere, ragazzi. E alla prossima, addio. Retreat. Andiamo. Ciao. Addio, alla prossima volta. Se gira così, allora vogliamo. Spero non ci sarà. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Esco anch'io, ragazzi, Gigi. Ciao, ciao. Beh, ragazzi. Mi vedete che sto da bando adesso? Anch'io. Che faccio, Loris? Chiudo lo stream? Loris? Sì, chiudi, chiudi. Manco il cielo. Bene, è stato un piacere. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Ci si vede nelle prossime live. Prossime live. Ciao, ciao. Ciao. Domani su Stellaris, eccetera, eccetera, eccetera. Domani su Stellaris a che ora? Alle, alle... Eh no, eh sì, no. I rocciolani spartano. Cry Weg Sagwald. Allora... Allora. Grazie.